1 2 Ho scoperto delle cose un pochino particolari, incredibili direi, e inquietate allo stesso tempo Si ricorda le due fanciulle, Lady Basildon e la signorina Mormont, no, Markmont Sì, quelle due le sopportarie Quelle sciocche quasi quanto voi alla fine Ma io facevo finta A quanto pare, anche loro Infatti mi sembra che non siano effettivamente ciò che dicono di essere Sare che sei Bisogna cercare di capire che noi siamo delle spie Oh, mia caro Olivia Buonasera Lady Basildon Buonasera, no È una straterata questa, ricorda a me i giorni pari A me i giorni I giorni che voglio io entrambe, soprattutto per me non c'è Gertrude in questo circolo di femministe Non lo sa cosa faccio Olivia, sei pronta? Certo La domanda è se sono pronta io Io non lo farei, forse in voi E voi? Voi siete già morta Vi ricordate l'invito a cena? La mia cola La mia cola Su quel cartina I gambi Robi è davvero il buono più utile di Londra Capisce, Mrs. Gray? Due spie Già, due spie Incredibile Già, bisogna capire al solo di chi fossero A questo proposito, qualcun altro sembra non aver detto chi è realmente Il fonte di Gavasham Sì? Non si fidi di quell'uomo, non si fidi Sembra tra l'altro più involto nell'omicidio del barone Arnaim Si ricorda, il barone Arnaim È l'uccisa! Bene, manteniamo la calma Sì Vado a chiamare lì fa Sì Credo sia morto È morto È decisamente morto Ah, Tommy Hanno ucciso È dipendido Ma visto? È interribile Lo so Lo so che l'hanno ucciso Sono cose che capitano, signore Quando ti risolvono problemi Vuole combattere con me? Lei, signore Lei è già morto Ha cinque passi Non lo dico Io vado a come la polizia Uno due